L'operazione di Jessica Notaro è riuscita, ecco cosa ha scritto la ragazza su Instagram e lo scatto pubblicato dopo l'intervento in ospedale Recentemente, vi abbiamo parlato del piccolo intervento a cui si sarebbe dovuta sottoporre Jessica Notaro La ragazza, a operazione ultimata, ha aggiornato i suoi numerosissimi sostenitori e ha raccontato come sono andate le cose Ecco le sue parole. L'intervento è riuscito. Proprio ieri, Jessica Notaro aveva mostrato per la prima volta l'occhio lesionato e aveva confidato ai suoi follower di essere in procinto di sottoporsi a una piccola operazione In serata, ha aggiornato tutti rivelando come sono andate le cose Ecco le sue parole e lo scatto che ha pubblicato su Instagram